Prima o poi, ognuno di noi incontra il male durante il cammino. C'è chi sceglie di nascondersi e chi invece lo affronta a viso aperto e lo combatte a costo di morire. Questa è la scelta che differenzia i veri uomini dagli altri. Conquest. E subito dopo, maciste all'inferno. La forza e il coraggio uniti insieme per sconfiggere il potere delle tenebre. Italia 7, domenica ore 20 e 30, Conquest. Ore 22 e 15, maciste all'inferno.